E riguardando queste immagini la prima cosa che ti viene da dire è che era una serata molto fredda e c'era poco pubblico, tra parentesi, non era un grande pubblico. Si vede in questa situazione il grande gol di Enrico Cucchi che ci ha lasciato troppo presto per il ragazzo che era e per le qualità che aveva. E tra parentesi in questa partita si vede anche Luca Vialli, qua ci sono delle azioni della Sampdoria dove guarda Luca che tiri che faceva, pace all'anima sua, povero Luca, che ci manca tantissimo e vedi gli spalti sono quasi mezzi vuoti. Qui è stata una parata importante perché Luca aveva cercato di fregarmi sul primo palo, come si vede da qui, non l'ha incrociata e io sono stato fermo fino all'ultimo. L'altra cosa determinante, guarda, questo è un ragazzo, Dario Morello, se lo ricordano in pochi, però qui Serena era sempre il solito arieta, d'aria di rigore, quello che riusciva sempre a buttarla dentro davanti alla porta. E quella partita la vincemmo anche meritatamente, nonostante la Sampdoria giocò una grande partita ed era la vittoria tra la vincente del campionato e la vincente della Coppa Italia. Questo è quello che ho detto sempre, una foto di squadra col trofeo e siamo in nove, sembriamo il trofeo che abbiamo vinto tre quartieri, invece che essere una vittoria importante e un trofeo determinante nella storia dell'Inter, perché era la seconda edizione della Supercoppa italiana. Questi sono i ricordi di un qualcosa che rimarrà per sempre, perché noi comunque in quel quinquennio abbiamo vinto uno scudetto, due Coppa UEFA e una Supercoppa italiana, che oggi sarebbe comunque un importante ampliare la bacheca della società. Grazie.